Amici del software libero open source ben ritrovati in questa 59esima puntata del podcast di Marcos Box. Come prima cosa fatemi fare i miei migliori auguri di buona Pasqua nella speranza che almeno oggi possiate staccare un attimo il cervello dei brutti pensieri che affogano la testa di molti di noi a causa della pandemia da coronavirus. Ormai è quasi fatta stando ai nostri governanti quindi qualche altra settimana di pazienza e potremo orientare la mossa e potremo diciamo riprendere parzialmente la nostra vita quotidiana. Quindi forza e coraggio, un altro po' ce la faremo. Iniziamo subito la puntata parlando nuovamente di coronavirus e di due iniziativi in ambito tecnologico che riguardano la lotta al covid-19. La prima riguarda Vodafone che ha aggiornato Dream Lab, la sua applicazione per smartphone Android e iOS che consente di utilizzare la potenza computazionale dei nostri smartphone perché è una rete di calcolo decentralizzata da utilizzare nell'ambito della ricerca scientifica. Con l'ultimo aggiornamento è stata aggiunta la possibilità di supportare la ricerca dell'Imperial College di Londra volta a studiare l'efficacia di farmaci già esistenti per combattere il coronavirus. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare le applicazioni e maggiori informazioni sul suo funzionamento. L'altra notizia riguarda la decisione di Apple e Google di collaborare allo sviluppo di una tecnologia per il tracciamento dei contatti affetti da covid-19. La tecnologia sarà basata su Bluetooth e l'obiettivo è quello di aiutare i governi a contenere la diffusione del virus. Questa settimana, complice un messaggio sulla making list degli sviluppatori di KDE, si era generata una piccola situazione di panico tra gli amanti di KDE. Era infatti traperata una notizia riguardante l'intenzione da parte di QT Company di limitare tutte le versioni di QT ai soli titolari delle licenze a pagamento. Questo per i prossimi 12 mesi e a quanto pare tale decisione sarebbe maturata a causa del coronavirus. Hanno necessità di far cassa e quindi si parlava appunto della necessità di monetizzare e di monetizzare anche dal punto di vista delle licenze. Una decisione del genere, se arrivata a compimento, avrebbe comportato dei regandamenti nello sviluppo di KDE, ma anche gli altri desktop e applicativi che fanno uso delle QT. Per questo molti si erano rinormati, ma fortunatamente è subito arrivato un comunicato da parte di QT Company con la quale la società ha rassicurato gli sviluppatori affermando che tale decisione non è nei piani della società e quindi statevi tranquilli, non succederà niente. Torniamo a parlare di Zoom, il software di videoconferenza più chiacchierato del momento. La scorsa settimana avevo realizzato un editoriale al riguardo, sottolineando tutti i problemi relativi alla privacy e alla sicurezza di questo software. Bene, non sono il solo a pensare così, anche Google è di questo avviso e ha infatti annunciato di aver inibito l'uso di tale software su tutti i computer aziendali per motivi di sicurezza. Google si aggiunge così ad altri grandi aziende che hanno deciso di mettere a bando l'utilizzo di Zoom, fra i quali c'è anche Tesla. Questa settimana, a distanza di un mese dal precedente rilascio, è stato rilasciato Firefox 75. Questa nuova versione introduce una nuova barra degli indirizzi in stile Google Chrome, quindi continua la cromizzazione di Firefox così come è stata definita qualche tempo fa dagli amanti del browser. e questa nuova barra degli indirizzi rende Firefox più facile da utilizzare, quindi è anche, diciamo così, più in linea con i standard moderni. Per gli utenti Linux c'è poi una grossa novità, una buona notizia. A partire da questo rilascio, Firefox viene rilasciato anche nella versione Flat Park. Questo rende gli aggiornamenti di versioni più rapidi, in quanto non c'è più bisogno di aspettare gli aggiornamenti da parte dei manutentori della propria distro. Sempre per gli utenti Linux è stato anche modificato il comportamento del click sulla barra degli indirizzi, che ora corrisponde a quello che accade su Windows e macOS. Restando in ambito web browser, il caro Alessandro ha realizzato un post su Brave. Brave che cos'è? È un browser open source basato su Chromium che si pone due obiettivi, essere rispettoso della privacy e garantire anche un nuovo sistema di sostentamento per i creatori di contenuti su web. Questo browser è figlio di Brendan H., il cofondatore di Mozygon, che è creatore di JavaScript, e negli ultimi tempi si sta sempre più affermando. È disponibile su tutte e quante le piattaforme desktop, quindi Windows, macOS e Linux, ma è anche disponibile per Android e iOS. Offre una serie di strumenti con blocco di fingerprinting, blocco di cookie di terze parti, blocco di script e quant'altro. Offre anche, cosa molto gradita, un AD block integrato con delle liste rispettose sia degli utenti, ma anche dei creatori, e offre una funzionalità chiamata Brave Rewards che, mediante un sistema di ricompense, consente di sopportare i nostri siti preferiti, semplicemente navigandogli su questi siti. Come funziona? Funziona che viene creato un portafoglio di criptovalute. Vengono mostrati all'interno del browser degli annunci mirati. Noi possiamo acquisire del credito, che possiamo riscuotere anche noi, qualora vogliamo, ma lo possiamo anche utilizzare per effettuare delle donazioni mensili ai siti che noi frequentiamo, inviare sia singole donazioni che inviare delle donazioni in base all'utilizzo, donazioni quindi automatiche. È un nuovo sistema di monetizzazione che è molto interessante. Tra l'altro, già da diverso tempo, ho abilitato il supporto a Brave su Marcosbox, anche se per ora non ho guadagnato nessun centesimo. Per la rubrica Microsoft ama Linux, questa settimana è arrivata una notizia che riempirà di gioia tutti gli utenti Windows che utilizzano il Windows Subsystem for Linux, o WSL per gli amici, ve lo dico all'italiana e mi picchieranno per averlo detto all'italiana acronimo. Comunque, a partire dalla breed 19.6.0.4 è stata aggiunta la possibilità di accedere al file system Linux direttamente da Esplora File, quindi non ci saranno più procedure tra virgolette complicate, ma direttamente da Esplora File troveremo i tux, ci cliccheremo da sopra e avremo accesso al Windows Subsystem per Linux. Per gli amanti della lettura segnalo l'aggiornamento di Fogliate, che arriva alla versione 2.0. Fogliate, che cos'è, è uno dei migliori ebook reader GTK in circolazione, ve ne avevo già parlato diverso tempo fa di questo software. Questa nuova versione offre una interfaccia utente migliorata che rende l'esperienza utente più appagante e più piacevole il suo utilizzo. Potete installare Fogliate sia dallo Snap Store che da Flattab, oppure scaricando il pacchetto in formato DEB direttamente da GitHub. Speriamo solo che aggiornino al più presto la versione presente dei ripositori di Manjaro Linux perché è ancora ferma a 1.5.3, quindi nel ripositori di Community c'è ancora quella vecchia. Volendo posso installarlo diversamente, però volevo aspettare appunto l'aggiornamento. Perché torno a parare di Manjaro? Perché dico volevo aspettare l'aggiornamento? Perché sì, sono tornato a Manjaro dopo aver avuto uno spiacevole incidente con la beta di Ubuntu 20.04, fra l'altro proprio il giorno in cui l'ho reggiato nella scorsa puntata del podcast, quindi vedete un po' la sfortuna come mi perseguita, e mi sono messo lì, ho deciso di cambiare distribuzione, ho deciso di installare Manjaro, prima nella versione XFSA, poi mi sono un po' rotto le scatole del fatto che andava tutto bene, ho detto mi installato la versione con Gnome, e mi sono imbattuto in un bug, perché ovviamente i bug mi perseguitano. Il bug riguarda gli autoswitcher. Quando con gli autoswitcher andate a disattivare le personalizzazioni di Manjaro, perché io odio il verde di Manjaro, gli amanti di Manjaro non me ne vogliono per questa cosa, ma non mi piace il verde di Manjaro, non mi piace le icone che vanno sovrascrivere alcune icone di programmi di terze parti, come Firefox, come quant'altro, vabbè, piccola polemica personale. Bene, che succede? Si presenta un bug che va, che rende attiva la modalità notturna nella schermata di login e sblocco, anche se noi la andiamo a disattivare, e non c'è possibilità di disattivarla manualmente, quindi noi la disattiviamo per la sessione desktop, ma rimane attiva per la schermata di login e sblocco. Mi sono messo a cercare, ho trovato la soluzione, poi è arrivato anche un commento sotto l'articolo, un commento da parte di Stefano, che fa parte del team di Manjaro, che ha ricordato che il bug salta fuori quando andiamo a togliere le personalizzazioni di Manjaro, è un bug conosciuto ed è dovuto al fatto che GNOME considera GDM come un utente, questo a causa di Wigan, e quindi si porta con sé tutti i settaggi dedicati, e per risolvere bisogna agire da terminale. Infine, ultima notizia della settimana, arriva dal mondo Apple. Alessandro ha pubblicato un articolo su Marcosbox riguardo l'aggiornamento 10.15.4 di macOS Catalina. Quest'ultimo aggiornamento di sistema va a risolvere diversi bug fra i quali c'era anche un problema con le chiamate di FaceTime. Su blog trovate maggiori informazioni di ChangeCog completo, perché non si vive di soltanto, di solo Linux, e si vive anche di altri sistemi operativi. Spero di fare cosa gradita per molti di voi che utilizzano piattaforme alternative. Bene, con questa ultima notizia si conclude questa 59 puntata del podcast di Marcosbox. Di nuovo, auguri di buona Pasqua, lunga vita e prosperità a tutti quanti, che non guasta mai, soprattutto in questo momento, e mi raccomando, commentate, condividete e diffondete il blog. Fra l'altro, c'è anche una gradita novità per chi usa Google News, da un paio di settimane il blog è presente anche su Google News, quindi avete uno strumento in più per poterlo seguire, che è uno strumento in più che si va a sommare al feed che trovate su Marcosbox, che mantengo sempre attivo, perché sono vecchi a scuola, ma si va a sommare anche alla pagina Facebook, al canale Twitter, sia quello personale che quello di Marcosbox, e infine al canale Telegram. Trovate tutte le informazioni su come accedere al canale Telegram, cliccando sui bottoni che sono presenti alla destra su Marcosbox. C'è sia il canale Telegram normale, che il canale della community di Marcosbox, che vi invito ad aprire, vi invito a partecipare, perché più ne sembra meglio è così. Si possono scoprire cose nuove, ci si possono dare consigli e quant'altro. Bene, di nuovo auguri, di nuovo lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima puntata di Marcosbox, la prossima settimana. Ciao ciao. Ciao.